Certamente lei è stata più capace di me di dare un senso di rinnovamento e di innovazione al Partito Democratico. Adesso tocca a Delli, ha una grande responsabilità e tocca anche a lei indicare la strada con la quale vorrà guidare il Partito Democratico. E adesso, incassata la botta della sconfitta, nel campo di Stefano Bonaccini si discute sul da farsi. Il punto di partenza è quel 46% di elettori che ha scelto il governatore. E' lì, dicono, ha solo la metà del partito. Nessuno del PD ha mai vinto con così poco margine. Ne dovrà tenere conto. Così come di un altro fatto inedito. Il voto degli iscritti, ed è la prima volta che succede, aveva dato un esito diverso. La neosegretaria, intenzionata a tendere la mano, proporrà ai sostenitori di Bonaccini di entrare nella nuova segreteria e magari offrirà il posto di presidente del PD al governatore Emigliano o a Dario Nardella. Più scivoloso è il nodo politico. Cosa farà Eilish Line se chiedono i supporti di Bonaccini sul decreto per il nuovo invio di armi all'Ucraina e sui temi del lavoro? Il PD sarà ancora la casa dei riformisti o diventerà un partito di sinistra a sinistra? Dipenderà molto anche da Eilish Line, dalle sue prime mosse, che segnali manderà. Il PD è un partito plurale o non è? Penso e spero lo possa ancora essere. Dalle diversità che sono emerse certamente da queste primarie, dovrà rinascere un noi comune e aspetterà a Eilish Line tenerla insieme. Il rischio scissione per ora è congelato, anche se un addio c'è già stato. Quello di Beppe Fioroni, cattolico popolare tra i fondatori del PD. Ai livelli alti non dovrebbero seguirlo, ma nei territori il malumore è altissimo e non si escludono emorragie. Il timore è che i mondi esterni decisivi nella vittoria di Eilish Line cambino la natura del PD e a quel punto, dicono, non sarebbe più la nostra casa. Lo ha fatto capire Giorgio Gori, mentre Renzi e Calenda non aspettano altro che raccogliere i voti dei delusi. Il banco di prova su cui Eilish verrà misurata, però, sono le europee del 2024. Se il PD andrà bene non avrà problemi, se no tutto tornerà in discussione. Spero che Slein sia all'altezza delle aspettative.